Stanno insieme da pochi mesi Giorgia Palmas e Filippo Magnani. Ma vanno a 100 o l'ora. D'altra parte sono entrambi abituati ad andare veloci, lui, campione di nuoto, nella vasca di bracciate e gambate ne ha sempre date a più non posso. Lei per star dietro al suo ex Vittorio Brumotti, lo spericolato inviato in bicicletta distriscia la notizia, di velocità ha dovuto intendersi per forza. Giorgia Palmas e Filippo Magnani, pronti per un bambino. Quindi non è vero il detto chi va piano va sano e va lontano. O forse sì, perché loro si sono incontrati, piaciuti e innamorati proprio durante un pit stop. E' bastato uno sguardo per capire che l'anima gemella. L'altra metà della mela era finalmente arrivata. E subito avanti con progetti, voglia di futuro insieme. Per costruire qualcosa di grande. Importante. Bello. Come una famiglia. Come un bambino. Ecco, lo abbiamo detto. Perché l'ex Vellina, che è già mamma di Sofia, avuta dall'ex compagno ed ex calciatore Davide Bombardini, e il Magno. Dopo aver fatto prova di maternità e paternità con i loro cuccioli Pelossi Polpetta e Sansone, sembrano proprio pronti ad allargare ulteriormente la famiglia. Un grande sogno che il campione di nuoto coltiva da tanto. Sin da quando stava con la collega Federica Pellegrini. Ma lei non era pronta, di accasarsi proprio non si curava. Troppo presto per lei. Ma è troppo presto per lui. Il pancino di Giorgia Palmas cresce? Il destino ci ha messo lo zampino. E il cuore di lui ha trovato quiete e casa accanto a quello di Giorgia. Già, casa. Ma casa non è solo un matrimonio. Casa è anche un bimbo in arrivo. È sempre il settimanale diva e donna a insinuare il dubbio, pubblicando delle immagini che mostrano la bella sarda con forme dolcemente arrotondate. Grazie. Grazie a tutti.